Salve ragazzi, cari amici del web, sono Andrea Bruni, in questo momento mi trovo nel Borneo, più esattamente nel Brunei. Per chi viaggia da queste parti, incapita spesso in un problema da non sottovalutare. Le prese della corrente che sono differenti, quindi i nostri apparecchi tecnologici tante volte non riescono a prendere la ricarica ed è impossibile per esempio ricaricare il computer il telefonino. Occorre quindi munirsi di un adattatore come questo qua che si trova più o meno ovunque o comunque vi è anche un trucchetto per fare entrare le nostre prese della corrente, ovvero queste qui tradizionali, all'interno dei loro bocchettoni. Ecco, vi farò vedere come fare. Prendiamo la macchina fotografica in mano con cui sto registrando il filmato. Queste qui sono le loro prese della corrente, sono quadrate. Vedete, se io calco qui dentro non c'è modo, non entra, anche perché sono fatte molto bene dal punto di vista della sicurezza. Questo è un bottone che permette di accendere e spegnere e hanno tutto questo bottone qui. Senza questo bottone qui non sono a norma, quindi non si possono vendere e chiaramente sono tutte certificate con il bottone per poter togliere la corrente. Ecco, quando sono in questa posizione qui, qui non arriva la corrente per cui potete anche andare a frugare e cercare di sforzare, non vi è pericolo di prendere la scossa. Io non ne sarei tanto sicuro per cui evito comunque di andare a calcare qui dentro. Come sono queste prese? Se io infilo qualcosa qui in alto dove c'è la terra, per esempio anche solo questo, qui si apre, si aprono i buchi ed è possibile infilare anche una presa normale. Per cui il trucco è questo. Vediamo se riesco con una mano sola. Infilo qualche cosa qui che tiene aperta nella terra e poi infilo la presa. Ecco, avete visto, infilando qualche cosa qui nel buco della terra, i due buchetti qui sotto si sono aperti e sono riuscito ad infilare la mia presa, per cui il mio telefonino lo potrò mettere tranquillamente in ricarica qua. Ecco, senza usare l'adattatore, poi l'adattatore che comunque mi porto dietro lo potrò usare per qualcos'altro. Ecco, questo è un po' un trucco per chi viaggia. Ecco, sono nel Brunei, in centro, ho una camera d'hotel grandissima. Qui un po' la visuale che si vede dalla finestra. Ecco qua, è un po' un posto caratteristico molto bello. Hanno un parco d'auto qui eccezionale, hanno tutti macchinoni tenuti a lustro. Qui non si vedono macchine gibollate. Ecco, il centro è un po' quella perla che esula dalla realtà locale. In realtà sono andato anche a vedere dietro lo splendore delle località del centro più belle. E vi è anche qui, il cosiddetto Lettamaio si trova anche qua. Chiaramente è nascosto, lo nascondono bene perché questo qua è una specie di principato, è un emirato dove vi è opulenza. Comunque lo stipendio, il salario medio annuale è sui 50.000 dollari, per cui non è poco. Ecco, questi SUV. Ecco, con questa dritta chiudo qui il video e ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti, ciao!